Salve, io sto aspettando Daniele. Daniele non c'è. Come mai? Tendenite, lo sostituisco io. Andrea. Margherita. Andrea, ti pure. Da quando è iniziata questa pubaggia? Cinque anni fa, in seguito a una brutta caduta, poi diciamo che il dolore era scomparso, ho ricominciato a correre, invece ora è tornato e non mi lascia in pace. D'ora in avanti due sedute a settimana. Che per me è un po' difficile trovare il tempo... Non devi più trascurarti. Va bene. Non ho capito, positivo o negativo? Nell'uno o nell'altro. E quindi? Tu senti male in un punto, ma la cosa potrebbe essere altrove. Grazie. Grazie. Grazie.